Per dieci di loro una mattinata diversa rispetto a quelle passate in piazza del popolo con auricolare e wifi. E' scattato il progetto Esperanto e così dopo un piccolo briefing sulle norme di sicurezza, scarpe e giacche a norma nella sala della circoscrizione a Moraglia si fa volontariato dalle 9 alle 13 per pulizia assieme ai volontari di quartiere al parco Scarpellini di Moraglia a Pesaro. Oggi inizia il progetto Esperanto, un progetto che vede impiegati 10 richiedenti asilo politico nel comune di Pesaro, progetto portato avanti dalla Onus Gulliver, la prefettura di Pesaro e dal comune. Questi ragazzi vengono affiancati da oggi in poi per i prossimi mesi ai volontari dei quartieri, quindi con i nostri volontari, vecchi signori, pensionati e anche semplici padri di famiglia andranno quotidianamente a pulire i parchi attorno alle scuole e le nostre strade. E' un progetto a cui crediamo molto perché da una parte il migrante si rende utile per la città, dall'altra parte i nostri volontari trasmettono al migrante cosa sono le tradizioni italiane, cos'è anche la semplice lingua. Tra di loro inizialmente parlavano francese e inglese, adesso parlano mezzo pesarese. Parole in inglese, francese ed italiano, le storie si mischiano ai sorrisi e agli occhi lucidi di chi le racconta. Come ti chiami? Io mi chiamo Mohamed, giallo. Da dove vieni? Da Gambia. Da quanto sei in Italia? Sì, sono qui da nove mesi. Quanti anni hai? 18 anni. 18 anni? Sì. Io ero arrivato prima in Calabria, ma adesso in Pesaro qui da solo cinque mesi, sì. Dove abiti e in quanti siete? Sì, sono a Novilara, Novilara di là, sì. Siamo 30 o 29 di là, sì. Ti piace questa esperienza di volontariato? Mi piace questo perché questo, come mi fa questo, mi stai studiando anche lavoro, piano piano, sì. Da quanto sei in Italia? Adesso in Italia sono nove mesi. Come ti trovi? È bene. Ti piace questa esperienza di volontariato? Mi piace il volontariato, per il futuro avere il bene, conoscere i ragazzi della città, conoscere tutte le persone, come si fa il lavoro anche.